Di qualcosa Andiamo a correre al parco? Ok raga Andiamo a correre Poco eh Perché poco Quando ho conosciuto il presidente del parco nord mi fa La città dovrebbe diventare come il parco nord Cioè a nessuno dovrebbe venire in mente di sporcare la città Come a nessuno verrebbe in mente di sporcare il parco Quello che mi ha detto è Quando io trovo qualcosa in giro che sporca il parco Mi viene distinto raccoglierlo e buttarla Attenzione la morale Buongiorno I miei vicini grandi Lui è il signor Ferrari Ha un cane cieco Activity completed Average pace 7.30 di passo raga Vuol dire che un chilometro faccio in 7 minuti e 30 E tantissimo Migliorerò Attenzione Se ne va Tappi Ad aprile mi sono messo a raccoglierli Da aprile mi sono messo a raccogliere i tappi per la croce rossa Dicono che siamo fatti di una plastica differente E che una volta che poi vengono consegnati Dissegnati alle agenzie quelle di dovere Riescono a ricavarsi i cash E i cash non li ridanno alla croce rossa Ma ricompensano la croce rossa Con una sede d'hotel Tra l'altro è un'ottima cosa Visto che siamo in tema casa Quando butti la bottiglia di plastica dentro il sacchetto E devi schiacciare E sei sicuro al 100% che le bottiglie si schiaccino Figo eh Croce rossa Sto arrivando Riescono a raccoglieri Si accettano consigli su cosa si può scrivere qua sopra Bella raga Si tratterebbe di questo festival Che sarà a Torino appunto a fine ottobre Ma che figata Va bene Sì guarda La gestione è una cosa carina Va bene Va benissimo Ciao ciao Grazie anche a te Ciao ciao Club to club Non so nulla Che figata Madonna che storia Dai Ho dimenticato Dovevo andare oggi pomeriggio a consegnarli Ma guarda ce l'hai? Ne ho un sacco Ma quali DJ si mettono a tirar giù anche le tende a spegnere le luce a riordinare lo studio Cioè solo i DJ di Radio 105 O quelli che non valgono un cazzo Attenzione improvvisamente Depresso Ma distrutto 105 CLAUDIA Sono educato e ti mando a fanculo il tuo nuovo recapito Oh Fai così schifo che guardo il tuo video e canso il tuo rarito Che bomba Se tu rapper che coniughi deve freestyle a un fluo rapido O sono asteroide colpirmi sopra la testa quando un rapper come il posto vincerà di studio di Platino Allora Vi lascio sotto qua il link di Shade Perché ha fatto una bomba 1 minuto e 43 di freestyle pazzesco Che bomba oh Bella Buonanotte Ciao domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti